Siamo uguali, non si è sentito, faccio ripetere quello che ho detto, perché se no non si è sentito. Ringrazio il ministro, ringrazio il dottor Spinelli e l'associazione APT per scendermi come testimonial. Ovvio hanno già parlato dell'associazione abbastanza, quindi io sono qui solo per dire che io credo in questo progetto e appena infatti ho ricevuto la chiamata del dottor Spinelli e ho accettato di fare il testimonio. Credo in questo progetto che aiutano non solo i pazienti ma le famiglie che non si prezzisano più. Il paziente non lo fa soffrire, ma invece ci sono tutte le persone attorno a lui che giustamente soffrono, non possono farmi aiutare l'antitico, invece proprio aiuto a casa, aiuta sia i pazienti che le famiglie. che le famiglie per migliorare la vita del paziente stesso. Quindi io credo in questo progetto e in quanto personaggio pubblico un dovere maggiore a sensibilizzare questa cosa.